Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo a questa squadra che ha dimostrato una grande capacità di formare ottimi atleti non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista umano, ragazze di grandi qualità e siamo molto contenti di essere al loro fianco. Oggi tra Allianz e Geass Basket nasce una partnership importante, il Geass ha scritto pagine gloriose nello sport nazionale, Allianz-Geass avrà un grande futuro che oggi cominciamo a scrivere. Siamo contenti, Allianz si affaccia al mondo femminile con il basket, noi siamo molto orgogliosi di questo e speriamo di avere un contatto lungo con Allianz il più lungo possibile.